auto da fè tragedia in un atto di tennessee williams versione italiana di mino roly personaggi la signora duvenet e lui suo figlio il portico antistante un vecchio cadente cocktail nel gil carré a new orleans nel luogo c'è un effetto di sinistra antichità perfino i fiori partecipano alla ricchezza della decadenza dalla non lontana bourbon street seminata dalla lurida processione di bar e di sale da ballo giungono mutati dalla distanza i suoni delle orchestrine e occasionali scoppi di risa la signora duvenet una fragile donna di 60 anni si dondola sotto il portico nella debole triste luce di un tramonto d'agosto e lui suo figlio esce dalla porta a vetri è un uomo debole di circa 30 anni tipo ascetico e macilento con febbrili occhi neri madre e figlio sono fanatici e la loro conversazione a qualche cosa degli incantesimi poetici e religiosi perché sei stato tanto sgarbato con la signorina bordelò mi dà ai nervi prendi in antipatia tutti i nostri pensionanti non dobbiamo aver fiducia in lei credo che sia entrata nella mia camera che cosa te lo fa pensare c'è qualche prova bene posso assicurarti che la signorina non è affatto entrata nella tua camera qualcuno è entrato nella mia stanza e ha frugato tra le mie cose nessuno ha toccato niente nella tua stanza la mia stanza è mia non ci voglio nessuno sai benissimo che devo entrarci per rimetterla in ordine non voglio che sia rimessa in ordine vuoi che ci cresca la sporcizia non andarci né per pulizia né per qualunque altra ragione ma come potresti vivere in una stanza che non è mai riordinata la pulirò io stesso quando sarà necessario si crederebbe che vi nascondi qualche cosa che cosa avrai da nascondere nulla che io possa immaginare ecco perché mi sembra strano che tu faccia tante obiezioni quando tua madre vuole entrare nella tua stanza ognuno vuole avere qualche segreto il tuo segreto e lui sarà considerato sacro lascerò che la sporcizia vi si accunghi che cosa intendi per sporcizia la polvere e il disordine nel quale vorresti vivere nonostante ci sia tua madre per rimediarvi la scopa e lo spolvero rimedieranno a ben poco anche l'aria di questi dintorni è sporca non è sana come dovrebbe essere amo le tendine pulite le finestre amo la biancheria candida voglio che tutta sia immacolato senza macchia in casa allora perché non ci trasferiamo nel nuovo quartiere che è più pulito le proprietà in questa zona hanno perduto il loro valore vendendo questa casa non ne ricaveremo nemmeno il costo per l'imbiancatura dei muri non ti capisco mamma parli sempre della purezza la purezza in tutte le cose ancora ti compiaci di stare nel mezzo della corruzione non è vero rimango qui perché ne sono costretta e riguardo alla corruzione non ho mai permesso che mi sfiorasse ma lo fa lo fa non possiamo fare a meno di respirarla qui ci penetra dalle narici ed entra nel sangue credo che tu sia il solo a dire questo non vuoi ragionare con calma ti basta una piccola cosa che subito alzi la voce e innervosisci tutti noi senza ragione sono arrivato a un punto tale da non poterne più e allora che cosa intendi fare muovermi muovermi so che la mia asma in un'atmosfera più pura in alto dove l'aria è più fresca non mi prenderebbe tanto spesso lascio tutto nelle tue mani se sarai capace di trovare qualcuno che ti faccio una offerta ragionevole mi deciderò a muovermi tu non hai la forza di muoverti o la volontà di rompere con tutte le cose le quali sei abituata tu non sai quanto siamo già stati infettati ma da che cosa lui questa fetida vecchia palude nella quale viviamo il vieux carré ogni specie di degenerazione nasce da qui non alla distanza di un braccio ma proprio in nostra presenza ora credo che tu esagere un poco tu leggi i giornali tu ascolti i discorsi della gente cammini davanti alle finestre aperte non puoi essere interamente incosciente di quello che succede una donna è stata orribilmente mutilata l'altra notte un uomo ha rotto una bottiglia e con i vetri acuminati ha spregiato il suo volto se le vogliono da sole queste cose con il loro licenzioso comportamento notte dopo notte c'è sempre un delitto nei parchi i parchi non sono tutto nel quartiere i parchi non sono tutto nel quartiere ma la decadenza sì questa è la prima lesione l'infezione focale il cancro in linguaggio medico si propaga dalle metastasi e si insinua attraverso i capillari e dentro i vasi del sangue umano da qui si sparge per tutti i tessuti vicini nulla è lasciato al di fuori della carie infine e lui parla in modo violento senza necessità sento terribilmente ciò devi cercare di non sembrare un fanatico non prendi posizione contro questo tu sai la mia posizione io so che cosa si dovrebbe fare dovrebbero esserci delle leggi per fare delle riforme non solo riforme ma provvedimenti realmente drastici sono favorevole naturalmente entro giusti limiti giusto giusto non si può essere giusti mamma per ripulire il male la città deve essere rasa al suolo vuoi dire anche questo vecchio quartiere distrutto condannato e demolito questo non è un limite ragionevole è quello che farai allora ho paura che tu non sia un uomo ragionevole ho buoni precedenti cosa vuoi dire in tutte le sacre scritture vi sono casi di città distrutte dalla giustizia del fuoco quando esse divennero covi di infamie elohi elohi condannarla io dico e purificarla con il fuoco sei rauco vedi ecco quello che ti procura l'asma l'eccitazione non il respirare aria cattiva sono rauco siediti e cerca di riposare ora non più faresti meglio rientrare e prendere una complessa di amital non voglio diventare troppo schiavo delle droghe non sto bene non sto mai proprio bene non sei mai stato forte come mi sarebbe piaciuto mi sembra davvero una stanchezza cronica i guai di duvenet sono quasi sempre dipesi dai nervi guarda ho un'infezione al petto e la chiami nervi no ma guarda quest'asma questo soffocamento questa morte del respiro mi chiami nervi non sono mai stata d'accordo con il dottore circa la sua diagnosi tu detesti i dottori tu detesti tutti i dottori diventi furiosa su questo argomento penso che ogni guarigione cominci con fiducia nello spirito ma come posso andare avanti se non riesco nemmeno a dormire credo che la tua insonnia sia causata dal mangiare la notte mi calma lo stomaco allora prendi qualche bibita le bibite non mi soddisfano allora qualcosa di leggero un biscotto con un po di cacao del latte caldo tutte quelle risciacquature mi nauseano ho notato che la notte non vuoi coprirti non posso sopportare le coperte d'estate il corpo suda e quando è scoperto si raffredda sei maestra su questo argomento solo perché sei eccezionalmente sensibile all'infreddatura non è raffreddore è sinusite le sinusiti e qualunque stato catarrale sono causate dalla stessa cosa l'infreddatura alle 10 del mattino regolare come un orologio il mal di testa mi comincia e non mi lascia che nel tardo pomeriggio una congestione nasale spesso causa del mal di testa la congestione nasale non c'entra per niente come lo sai non è in quel posto dove allora qui alla base del cranio e si spande tutta in giro in giro dove qui qui no no sei cieca ho detto qui 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 potrebbe dipendere dall'eccessivo lavorio degli occhi proprio ora che ho cambiato le lenti tu leggi sempre sotto una cattiva luce sembri pensare che io sia un sabotatore di me stesso certo che lo sei tu non sai ci sono molte cose che tu non sai mamma non ho mai preteso e desiderato di sapere tutto ci sono tre semplicissime regole che vorrei tu osservarsi primo devi sempre metterti la maglia non appena c'è un cambiamento di tempo secondo non dormire senza coperte non le buttare via la notte terzo mastica il cibo non lo inghiottire mangia come un essere umano e non come un cane aggiungo a queste tre semplicissime regole di igiene comune quello di cui è maggiormente bisogno la fede in una guarigione spirituale perché mi guardi e perché quel gemito tu proprio non sai sapere che cosa il tuo mondo è così semplice vivi in uno sciocco paradiso davvero sì mamma è vero io sto davanti a te come uno straniero come uno sconosciuto vivo in una casa dove nessuno sa il mio nome oh mi stanche lui con questa tua eccitazione io proprio non sai ti dondoli sotto il portico e parli di bianche tendine pulite mentre io sono tutta una fiamma tutto un rogo e nessun campanello suona nessuno dall'allarme di che cosa stai parlando un fuoco intollerabile la coscienza di tutti gli uomini sporchi non ti capisco come posso parlare più semplicemente vai a confessarti il prete è uno storpio in sottana come puoi dire questo perché ho visto le sue sottane e le sue grucce ascoltati i suoi borbottì senza significato attraverso il muro non parlare così mia presenza è una magia spenta non brucia più bruciare perché dovrebbe perché bruciare è necessario per quale ragione per il fuoco per dio per la purificazione oddio dio dio non posso rientrare nella casa e non posso rimanere sotto il portico non posso nemmeno respirare liberamente non so quello che sta per accadermi stai per avere un attacco siediti ora dimmi con calma quello che succede che cosa in mente da una decina di giorni come sai che ho qualcosa in mente hai qualche cosa in mente da martedì della scorsa settimana è vero è vero non credevo l'avessi notato che cosa è successo all'ufficio postale come hai capito che è accaduto la perché non c'è stato nulla in casa che possa giustificare le tue condizioni no allora ovviamente si tratta di qualche cosa nel tuo ufficio sì che cos'è lui una lettera hai ricevuto una lettera da qualcuno e questo ti ha scolvolto tanto non ho ricevuto nessuna lettera allora che cosa vuoi dire con una lettera una lettera capitata per caso tra le mie mani mamma mentre stavi selezionando la posta sì che cosa c'era per sconvolgerti tanto la lettera era stata spedita aperta e qualche cosa ne cadde fuori che cosa una fotografia una una fotografia che genere di fotografia e lui che fotografia era miss bordelon sta nell'atrio e spia tutto quello che dico non è nell'atrio all'orecchio appoggiato alla porta ma se sta leggendo in camera da letto leggendo che cosa come posso sapere quello che sta leggendo che importanza ha quello che sta leggendo tiene un diario di tutto quello che viene detto nella casa sento che sta stenografando sul tavolo perché per quale ragione dovrebbe stenografare le nostre conversazioni hai mai sentito parlare di investigatori salariati eloi stai dicendo cose terribili posso sbagliare ma certo che sbagli andiamo dimmi quello che hai visto su quella fotografia una fotografia sconcia cadde dalla busta che cosa una fotografia indecente di chi due persone nude questo è tutto tu non l'hai vista è tanto indecente sorpassa tutte le descrizioni tanto indecente no peggio ho sentito come se qualcosa fosse esplosa tra le mie mani si gonfiasse e mi bruciasse il volto con l'acido e chi ti ha mandato questa orribile fotografia eloi non era per me a chi era indirizzata a uno di quei ricchi antiquari sulla royal e chi era il mittente uno studente universitario il mittente non è passabile d'azione legale certamente andrebbe in prigione non vedo nessuna ragione di essere clemente in casi del genere nemmeno io allora che cosa ne hai fatto nulla ancora non ho fatto nulla e lui ancora non l'hai consegnata le autorità no non ancora non riesco a immaginare il perché di questa tua esitazione non posso procedere senza prima investigare investigare che cosa tutte le circostanze riguardante il caso quali circostanze ci possono essere nel fatto che qualcuno usa il servizio postale per tali scopi la giovinezza del mittente ha qualche cosa a che vedere con il caso il mittente è giovane 19 anni i suoi genitori sono vivi ambe due e vivono in città il mittente è molto giovane come sai tutte queste cose ho fatto un'indagine privata ho telefonato e sono andato al suo collegio abbiamo parlato e ogni cosa è stata discussa si comportò come se fosse andato per ricattarlo che cose terribili naturalmente gli spiegai che ero un impiegato statale e che avevo dei doveri verso i miei superiori e verso la cittadinanza e che era veramente bontà da parte mia rimandare i provvedimenti che dovevano essere presi i provvedimenti che devono essere presi allora cominciò ad essere offensivo minaccioso non posso ripeterti le ingiurie i commenti maligni fuggì dalla stanza lasciai il cappello non ho più potuto tornarci a prenderlo e lui e lui oh mio caro lui quando è successo tutto questo venerdì tre giorni fa e non hai fatto nulla finora ho pensato e pensato ma non sono riuscito a decidere nessun da fare ora è troppo tardi perché hai trattenuto la lettera troppo a lungo per poter intraprendere un'azione qualsiasi oh no non rimarrò paralizzato un minuto di più ma se consegni la lettera ora ti domanderanno perché non l'hai portata prima posso spiegare che mi sono preso la responsabilità no no è molto meglio non fare più nulla ora devo fare qualcosa faresti meglio distruggere la lettera e lasciare quell'impudente sano e salvo che cosa faresti ora dopo tante esitazioni deve essere punito dov'è la lettera nella tasca hai quella cosa con te nella tasca interna come sei stupido sciocco suppone che ti fosse accaduto qualche cosa e fosse stata trovata nelle tasche mentre eri privo di sensi e non potevi giustificarla non parlare così forte quella donna ci sta ascoltando miss bordelon no sì sì è stata pagata per farlo appoggia le orecchie al muro per ascoltare quello che dico dormendo e lui e lui hanno pagata per farlo per spiare e frugare e indagare nella casa chi ma chi il mittente e l'antiquario parli in modo che mi spaventa e lui devi subito distruggere la lettera distruggerla sì come bruciala sì sì bruciarla in questo momento andrò in casa a bruciarla no bruciala qui davanti a me non puoi guardarla dio mio mi strapperei gli occhi prima di guardarla credo che sia meglio andare in cucina o in cantina no e lui bruciala qui sotto il portico qualcuno potrebbe vedere che cosa potrebbero credere che sia una cosa mia e lui e lui bruciala mi senti bruciala ora in questo momento non guardare la prendo hai i fiammiferi lui li ho mamma benissimo allora brucia la lettera è quella terribile fotografia e lui che cosa c'è mi mi è caduta la fotografia raccoglila e bruciala in fretta sì e lui ti sei bruciato le dita sì vieni in cucina e mettici un po di bicarbonato vai in cucina e mettici un po di bicarbonato eloi eloi hai chiuso la porta che cosa stai pensando eloi 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 perché mi hai chiusa fuori che stai facendo apri la porta per favore eloi eloi rispondimi eloi al fuoco al fuoco la casa in fiamme in fiamme la casa in fiamme al fuoco è stato un po' Grazie.